Da Pisa a Livorno lungo il canale dei Navicelli, domenica 27 ottobre, è in programma la prima edizione dell'evento che unisce le due città tramite l'acqua del canale dei Navicelli, appena rimesso a nuovo. Il percorso è lungo, 17 chilometri, e l'evento è stato presentato in Palazzo Strozzi Sacrati. Potranno navigare diversi tipi di canoe nel canale che venne commissionato da Cosimo I dei Medici per collegare Pisa al porto di Livorno. Noi abbiamo, inavvertitamente, negli anni, soprattutto dopo la guerra e poi, perso un rapporto nel nostro fiume. Perso perché abbiamo perso la confidenza, la confidenza con l'acqua, con le sponde, con la quotidianità che invece facevano parte normalmente delle comunità e delle città che sull'Arno vivono. Un rapporto dunque da recuperare e valorizzare. L'evento è organizzato dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, dai canottieri comunali Firenze, da Navigarno e dalla Navicelli di Pisa SRL, un canale che rivive attraverso lo sport. In sostanza questo canale lo vogliamo migliorare, implementare e rendere sempre maggiormente all'altezza, quindi forse qualcosina diversa rispetto a come l'ha pensato Cosimo dei Medici, però stiamo andando avanti, secondo me, bene. L'idea è rendere l'Arno sempre più fruibile e vivibile. Nella stessa ottica, lo scorso aprile, si era svolto Navigarno, cioè la discesa via fiume di canoe da Firenze a Pisa.